Siamo all'interno di Prestige, uno dei templi della moda. Come stanno andando le liquidazioni? Guarda, le aspettative erano più maggiori, però abbastanza bene, anche se ci aspettavamo molto molto di più. Però non ci lamentiamo. Si dà il fatto che a Rezzo ad agosto tanta gente rimane comunque. Ad agosto? Sì, ora giugno e luglio, infatti un po' visto che molti sono andati via, speriamo che ad agosto di lavorare un po' di più. Voi chiudete, avete... Noi non chiudiamo, facciamo i turni, non chiudiamo, siamo aperti tutto agosto. Però non siete tanto contenti delle liquidazioni? No, non tanto. Comprerò qualcosa io? Ma intanto il 45 ce l'ho, il 44, comprati la scarpa, vai. Visto? Così. Basta fare l'intervista che si spende. Luciano Imbriani, uno degli esponenti del commercio aretino più sportivo, perché ci sono i piagnucoloni e invece quelli positivi, giusto? Io sono positivo, io sono positivo, primo perché non sono più grande, ma è il più piccolo grande commerciante di Arezzo, che è fondamentale. I grandi sono alti, li trovi sia al nord del corso che al sud del corso. Quindi dopo questa polemica sulla collocazione geografica dei negozi aretini, volevo chiederti Luciano, come stanno andando i saldi? I saldi sono una cosa positiva, è che ora bisogna modificare tante cose, prima da saldi bisognerebbe anche cambiargli un po' la parola, perché non va più detto saldi, ma togliere la D e mettere la T, perché ora bisogna fare i salti moltari per poter tenere un negozio e stare in piedi. Però in linea generale cosa devo dire? Devo dire quello che vogliono, che dicono i giornali, che dicono che... Tu devi dire quello che succede. Sta andando tutta con fie vele, io non me ne rendo neanche conto, guarda, è una cosa quasi incredibile, noi non abbiamo, che ti devo dire, ci hanno quasi spogliato. Da quanta roba hanno comprato? No, la sera più che altro, perché ora mi muoio in America. Sì, ne ha comprato, no, bisogna dire... Sai che con il web ti puoi sentire? Sì, ma scherzavo, Jenny. Non è vero, io vado a casa alle 9, 9 e mezzo dormo, la mattina alasso presto, vengo al negozio, tutta la mia vita è qui dentro. Che vita? Di me, di niente. Se un po' di gente si vede per i saldi, i saldi sono una cosa buona. Saldiamo? Basta. Basta.